I numeri sono importanti in prospettiva immunità di gregge, oltre 2.000 vaccini già somministrati in una settimana qui all'ospedale di Miccoli di Barletta, centro dedicato ai pazienti oncologici, ematologici e quelli sottoposti a cosiddetta terapia attiva, chemio e radio. A stretto contatto il personale della ASL e quello della brigata Marina San Marco che negli spazi antistanti il pronto soccorso ha allestito un posto medico avanzato dove sono stati presi in carico quasi 150 pazienti positivi al covid. Contiamo di smaltire entro questa settimana tutta la popolazione ovviamente vaccini permettendo e tutta la popolazione fragile è quella sottoposta a terapie oncologiche. In questa maniera noi completiamo il quadro dei pazienti fragili, dei cittadini fragili l'overo 80, i domiciliari, l'assistenza quindi integrata e oncologica a domicilio con ulteriore spoc vaccinale che grazie alla Marina Militare che ci accompagna ormai dal mese di novembre tra tamponi prese in carico di pazienti a livello degenziale e ora anche con i vaccini e diciamo che la nostra gratitudine non può che non può che essere enorme in questo momento anche perché il loro compito è quello di assisterci in questa fase anche da un punto di vista sociale. L'impegno sul fronte vaccinale che sicuramente il fronte adesso più importante perché ci porta a guardare al futuro, ci porterà a guardare al futuro con un po' più di ottimismo.